Daniele Scardina fuori dalla terapia come sta, il post social. Roma Daniele Scardina vince il primo round della sua personale battaglia, il pugile infatti fuori dalla terapia intensiva. A un mese dal malore e dal ricovero d'urgenza datato 28 febbraio, il classe 1992 di Rozzano è stato dimesso dalla terapia intensiva e continuerà il suo percorso di cure in terapia. Poi sarà la volta di una seconda fase di cure, che proseguirà in un centro di riabilitazione specializzato. Scardina, il fratello Giovanni, condizioni in miglioramento La notizia del miglioramento delle condizioni di King Toretto è stata resa nota dal fratello Giovanni sul proprio account Instagram. A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare. Oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo. Le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla terapia intensiva per proseguire il percorso di cure inizialmente in un reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato. Scrive emozionato il fratello. La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita. Impossibile trovare parole per ringraziare l'equipe medica della terapia intensiva dell'Istituto Clinico Humanitas che in queste settimane si è presa cura di Daniele in maniera straordinaria. Lo stesso Giovanni ringrazia anche tutti coloro i quali sono stati vicini alla famiglia in un momento così difficile, grazie anche a voi per la vicinanza che ci avete dimostrato camminando al nostro fianco in questo terribile momento. È bello sapere che tantissime persone hanno avuto un pensiero per mio fratello. La strada è in salita, ma noi abbiamo fede. Virgola.